Siamo con il Presidente Francesco Berzero che illustra la Sagra della Lomellina da oggi venerdì a domenica e le ultime iniziative dell'Ecomuseo del Paesaggio Lomellino. Buonasera a tutti, sono Presidente dell'Ecomuseo del Paesaggio Lomellino, siamo molto contenti di poter ospitare a Brene questa Sagra della Lomellina con 9 prologo importanti che stanno preparando 2-3 piatti molto importanti e che sicuramente chi verrà in questi 3 giorni alla nostra Sagra potrà degustare e apprezzare questa cucina. Naturalmente l'Ecomuseo è una delle tante iniziative, dopo la bandiera Lomellina che qua vedete in miniatura che abbiamo festeggiato il 9 di maggio e quindi il nuovo buscolo che sta per uscire anche questa settimana sicuramente lo troverete sul nostro sito Ecomuseo del Paesaggio Lomellino.it il direttore lo andrà a caricare, quindi potrete gustare tutto quello che è Lomellina e quindi capire dei castelli al cibo, alle galzaie, agli alunni delle scuole, quindi abbiamo progetti per tutti. Detto questo io mi auguro che questi 3 giorni possono essere una ripartenza, una ripartenza importante perché la Lomellina se lo merita e la Lomellina è sempre più frequentata, già in questa settimana abbiamo 6 prenotazioni da Carmagnola, da Saronno, da Genova, da Torino, quindi abbiamo una situazione molto importante e tutti i nostri tesori nascosti sono sempre meno nascosti e mi auguro che anche per i Lomellini questo sia un punto molto molto importante. Viva la Lomellina! Grazie!